Questa mattina Cecilia Francese è stata proclamata sindaco di Battipaglia per il quinquennio 2021-2026. Intanto si incominciano ad ipotizzare i primi nomi per la composizione della nuova giunta. Saranno confermati sicuramente gli assessori Catarozzo e Giuliano, mentre per gli altri nomi Cecilia Francese avrebbe avuto la condivisione di tutte le forze politiche nello scegliere gli altri nomi. Cecilia Francese ci ha dichiarato che sarà un'aggiunta di qualità per approndare il rilancio della città e risolvere le tante tematiche presenti sul territorio. L'altra certezza dovrebbe essere il nome di Ancelo Cappelli alla presidenza del Consiglio Comunale. La città inoltre si aspetta anche molto dall'intero Consiglio Comunale che si presenta quasi totalmente rinnovato.